Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Così mi levo da tutti i 55 di Fabio Marcaccini Chissà quante volte noi che scriviamo, voi che ascoltate e anche chi non lo fa, magari consigliateglielo voi, avrà preferito usare questa frase per proferire il proprio disagio senza aver mai riflettuto sul perché di queste parole. Anche perché non è un proverbio che cela fra le righe il suo significato, per saperlo bisogna conoscere alcuni aneddoti. Questo ci è stato svelato solo pochi giorni fa ed è troppo carino per non riproporvelo subito prima che si sparga la voce. Nelle anguste carceri dei Domenicani le celle come logico avevano una loro numerazione. La cella numero 55 però non era utilizzata come le altre per alloggiare i detenuti ma veniva impiegata per gli interrogatori. Diciamo anche che spesso capitava che questi interrogatori non fossero neanche troppo tranquilli ed eleganti né rilasciati in piena libertà. Figurarsi alla presenza di un legale come accade oggi. Fra i detenuti, un po' rassegnati specie in situazioni di particolare difficoltà, cominciò quindi a girare la frase Così ci si toglie da tutti i 55, che voleva significare che, superata anche quella prova, non ci sarebbero stati altri momenti peggiori.